Musica Musica Bene ragazzi, quello che vi ho appena mostrato è un sumo squat combinato con le distensioni in alto, sempre utilizzando il nostro bilanciere. Come fare per eseguire questo esercizio? Andiamo a impugnare un bilanciere tenendo il polso più aperto rispetto alle nostre spalle. Andiamo ad aprire le nostre gambe e quindi ci mettiamo in posizione di sumo squat, quindi teniamo le punte aperte verso l'esterno e anche le ginocchia sono belle aperte verso l'esterno. Prendiamo il nostro bilanciere e andiamo a posizionarlo nella parte superiore della nostra schiena. Guardando dritto e tenendo la schiena bella dritta, cerchiamo di scendere più che possiamo con i glutei verso il pavimento, tenendo le ginocchia sempre belle aperte. Piano piano ci portiamo su, anche qua non dobbiamo mai, come il sumo squat non dobbiamo mai andare a stendere completamente le ginocchia. Quindi le mie gambe restano leggermente piegate e vado a distendere in alto il mio bilanciere, quindi le braccia sono belle distese, piano piano ritorno nella posizione di partenza e andiamo ad effettuare un sumo squat. Giù, ci portiamo su, distendo in alto il mio bilanciere e le braccia, scendo e quindi abbiamo uno, due, tre e quattro. Ciao e buon allenamento! Ciao e buon allenamento!